Il video è ironico! Tutte le cose dette non sono mai capitate, quindi prendete i popcorn e guardate tutto il video! Ciao a tutti. Oggi sono triste perché il giorno 45 di Juve Embraio sono andato nel set del video di J-Ax e Fedez per fare una foto con loro. Ho speso tanti petrol dollari per poterli vedere, così ho fatto di tutto per trovarli. Ho scoperto che erano a casa di Paris Hilton per girare il video della canzone Senza Pagare. Ho suonato il campanello e mi ha aperto Fedez. Io l'ho salutato dicendo che sono andato a Los Angeles solo per lui e J-Ax. Solo che Fedez mi ha detto di andarmene e che voleva tirarmi un pugno con i piedi sul mio orecchio. Io gli ho detto che ho la cartilagine fragile e che poteva staccarmi l'orecchio con un pugno di piedi. Così mi colpì con un tulipano rosso sulla poplite sinistra. Se non sapete cos'è, la poplite sarebbe l'ascella del ginocchio. Io cominciai a piangere e J-Ax arrivò ricordandosi di me. Disse che se non me ne andavo mi tirava una fragola di bosco sull'orecchio. Tutti che ce l'hanno con quest'orecchio. Comunque io gli ho detto anche a lui che ho la cartilagine fragile e che poteva staccarmi l'orecchio con una fragola di bosco. Così mi colpì nella poplite destra. Io non riuscivo a piangere dal dolore. Volevo solamente una foto con loro due. Una foto! Comunque, ad un certo punto arrivò T-Pain e disse ai due cantanti Fedez e J-Ax se ne andarono e T-Pain voleva che lo pagassi per avermi aiutato. Mi diceva Così io scappai più veloce del ventilatore e nessuno seppe più nulla. Solo che adesso la poplite mi ha fatto infezione con il tulipano e la fragola di bosco. Ho la poplite più grande di un campo da calcio. Siete tutti cattivi! Tutti! Tutti cattivi! Il video è finito! Spero che vi sia piaciuta tutta questa demenzialità! Lasciate un mi piace, un commento e condividete il video! Se arriviamo a 300 mi piace farò la parodia della canzone senza pagare! Ovviamente nel mio stile avvistato! Quindi mettete mi piace e condividete! Ciao! Ciao!